Vediamo come si ridefiniscono le unità di misura. Il 20 maggio 2019 entrerà in funzione un nuovo sistema internazionale di unità di misura. Le unità e quindi i riferimenti di misura ci occorrono per effettuare misurazioni tutti i giorni, ad esempio in metri, chilogrammi, secondi. Quando acquisto 200 grammi di prosciutto crudo questo significa che la massa in questione è 0,2 volte la massa di un chilogrammo che fa da riferimento o campione per quella misura. L'importante è che i campioni usati siano gli stessi per tutti. Il primordiale sistema internazionale di unità di misura fu adottato in seguito alla rivoluzione francese e nel 1875 alla firma della convenzione del metro si convenne di utilizzare tutti lo stesso metro, chilogrammo e secondo. Nel tempo si aggiunsero altre unità di misura per arrivare nel 1971 all'attuale sistema internazionale di unità di misura basato su metro, chilogrammo, secondo, ampere, kelvin, mole e candela. Già nel 1870 Maxwell riconosceva che i migliori riferimenti devono essere universali, cioè uguali per tutti i tempi e tutti i luoghi e non solo sulla Terra. L'attuale rivoluzione del sistema internazionale di unità di misura sposa appieno i principi voluti da Maxwell arrivando a definire sette costanti fondamentali di natura dalle quali è poi possibile ricavare le sette unità principali e da esse quelle secondarie. Le costanti di misura che ridefiniscono le sei e le corrispondenti unità principali sono queste. Una particolare frequenza atomica dell'atomo di cesio da cui si ricava il secondo, la velocità della luce nel vuoto da cui si ricava il metro, la carica dell'elettrone da cui l'ampere, la costante di Planck dalla quale è possibile ricavare il chilogrammo, la costante di Boltzmann per il Kelvin e la temperatura assoluta, la costante di efficacia luminosa per ricavare la candela e il numero di Avogadro da cui naturalmente la mole. Da queste sette unità di misura principali è possibile poi ricavare ogni altra unità secondaria. La ridefinizione dell'SI è stata approvata nel novembre 2018 e diverrà operativa da maggio 2019. Avremo dunque un nuovo chilogrammo, anche se praticamente le varie unità cambieranno di pochissimo. Invece da un punto di vista concettuale il fatto di basare l'intero sistema su costanti di natura e non più manufatti come il chilogrammo campione conservato a Parigi consentirà di utilizzare gli stessi riferimenti comuni per tutti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Nonostante questo cambiamento epocale non dobbiamo preoccuparci perché le misure di tutti i giorni non subiranno variazioni apprezzabili nei valori riscontrati. Grazie a tutti.